Saluta, salutate, salutate, salutiamo il nostro adorato Gianmaria, salutate Saluta, salutate, 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 posso metterlo su Youtube, questo, posso metterlo su Youtube, perché no? Siamo tutti in quadro e la Carolina così fa Eh, io lo so 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 Eh, beh E questo lo metto proprio su Bello E basta, le altre donne non le so È un video Eh? È un video Sì Di qualcosa che poi lo metto su Youtube Per chi è? No, boh, lo metto su Youtube Ciao Youtube Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti